Scivoli con brevi percorsi per i più avventurosi e piccole pareti per poter esercitare le proprie doti acrobatiche. Sono arrivati dei nuovi giochi all'interno delle aree dedicate ai bambini, sia nel Parco Robinson che al villaggio di Santa Barbara. 67 mila euro circa, questo l'importo, che grazie ad un finanziamento ottenuto dal comune di Caltanisset è stato investito nelle due villette cittadine. Rinnovata anche la pavimentazione antitrauma, che permette ai più piccoli di giocare in sicurezza. Sono altri finanziamenti, che comunque sono sempre finanziamenti di natura nazionale, che vengono ogni anno erogati ai comuni per attività del genere. Sono completati i lavori per la sostituzione dei giochi che ormai erano in pessime condizioni. Sono stati messi dei giochi nuovi per allietare i più piccoli, sia nell'area giochi di Parco Robinson, presso via Edmontodamicis, sia anche nella villetta di Santa Barbara. Prossimamente metteremo mano anche ai giochi di Villa Cordova e della Villa Medeo, perché a breve saranno consegnati i lavori per il rifagimento della villa, che non consistono soltanto nella sistemazione dei giochi, ma anche nella sistemazione dei viali, la ripiantumazione e la sistemazione a verde delle due ville. Sono due impegni più cospicui che interesseranno comunque anche le aree gioco di tutte e due le ville. Sono dei finanziamenti che ci sono stati concessi al Ministero degli Interni, è stato nell'estate dello scorso anno.